Grazie a tutti. Imbrogli, complimenti, sta corda va a finir che la si spessa, io troppi, i ribaltoni che mi inventi a tutti, gode metterci una pezza. Al capo dei impostor sono diventato me, che c'avevo una parola sola, godezzurare quel che non ho fatto, per salvare l'onor alla figliola, che poi non dentro un'altra, la va via, altro spettacolare da camponare, gli dirà che la colpa è la mia, che la cavalla non la so domare. Se l'è così, che mi deve continuare meglio che tu mi lasci fermo al palo, che questa vita no, non la so fare, mi deve bruciare il stomaco e mi ha male. Dunque, tu sei Giuseppe Lebanista? Marito Tappabucchi e Riservista. Bene, diamo un'occhiata alla cartella. Morbillo, parotite, varicella, colesterolo e urine della norma, esofagite con meteorismo. Cosa l'è sta roba lì? Pettegorismo? Gas, fetido di cibo che fermenta e che preme per sortire dall'intestino. L'è qui? La sento qui? La prima volta confia del gran respiro di robe nuove che te tocca, te basa, te rivolta? Come un urlo di gioia che ti aspetta, è te che non stai fermo e vuoi balare. Bagliamo come fare la ricetta della torta di Pasqua da portare? Sì, sì, ma parliamo. Allora, sei uova, quattro agli di farina. Bravo! Il zucchero, un cucchiaio superfitto. Desessero, una spoglieratina, il burro, il burro, non ti ricordo più. De burro, quanto basta? Allora, cominciamo. Signore e signori, attenzione, sei uova. Un uovo, signore e signori, quale? Due uovi, tre uovi, Maria. Quattro uovi, cinque uovi. E che mi ha sei uovi, che? Beppe, ci vuole. Sei uova, signore e signori. Fate guardare. Non c'hai una bella cero? Che fatica fai a respirare. La mi ha sviluppato un poco questa sera, ma adesso me passa tutto a riposare. Metti sta coperta sulle spalle. Almeno, l'acqua che è una sorgente qui vicino. Non vado, sai, se dici che stai male. Sto bene, vai. Traversa sto giardino. T'ho detto che sto bene, vai. Che ti aspetta? Adesso, lei con lui che devi stare perché al tuo beppe qui, poco che resta. Io ti aspetta o no. Grazie a tutti